amici e amiche di peppe hightech bentornati su shadow of the tomb rider allora siamo aggiunti alle ravine di quack yaku abbiamo visto un'esplosione in lontananza perché la trinità quanto pare ci ha battuto con la tempistica e oggi vedremo un po la nostra lara che cosa dovrà affrontare voi mi raccomando seguite gameplay fino alla fine lasciate un like e commentate il commento è sempre ben gradito vediamo in gioco ok il sentiero della vita quest'oggi si chiamano sì la missione interessante direi proprio che dobbiamo proseguire dobbiamo andare verso quella direzione quindi sarà da scendere sì mi si è bloccata devo tuffarmi beh direi forse sì vabbè nel frattempo io mi sono buttato ok dobbiamo andare di là che cosa ha visto ah quelli della trinità quelli della trinità va bene prendiamo l'alga perché può essere utile oh che sopirania ok e ora dove passiamo ah per sotto bene eccole sì 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 è un buco dove poter passare perfetto ehi ah i droni erano più pesanti del previsto e taglienti la barcha è a posto comunque meno male dai fortuna che sei qui ah i rovi avevo capito i droni mi hanno detto come droni vabbè ok e uno è andato aspettiamo che si allontano eh ne sono parecchi devo stare attento proviamo ad andare sott'acqua vediamo un po' cosa so 5 mili a fare il segnale è forte attacco l'intruso oh no ok e abbiamo risolto il problema ok dobbiamo andare di là perfetto oh non prendiamo prendiamo tutto ok la fine dei tempi sentiamo oh ma è veramente così c'è un'altra possibile interpretazione ovvero che egli abbia lasciato la responsabilità della distruzione in mano all'umanità stessa e ora che siamo responsabili per la vita di ogni individuo tutto ciò che tocchiamo diventa corrotto e abbrutito Sono passati 4000 anni dall'ultima volta che il mondo ha conosciuto la purezza e noi vogliamo mettere fine a questo scempio. Vogliamo essere gli architetti del nuovo mondo. Guideremo tutti verso il paradiso, cancellando per sempre questa esistenza pieca e peccaminosa. Interessante. Interessante. Ok, vediamo ora dobbiamo andare. Ah, di qua. Prendiamo materiale che ci serve sempre. Così possiamo creare quello che vogliamo. Nara, tutto ok? Al momento sì. Sì, c'è una base della Trinità qui. Sì, Giona, senti. Che è successo? Vi avevo detto di non fare danni. Eh, oh, eh, capita, insomma. Con Lara. Ok. No, 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 no. Vediamo, qui c'è un'altra scrittura. Sentiamo un pochettino. Ah, hanno fatto un diario su di me. Bene. Bene. È piacere. Un'altra ricerca, ma è ben più aperta al rischio. Non avendo figli né famiglia, è libera di perseguire i propri obiettivi, talvolta fino all'ossessione. Sebbene questo possa farla apparire impulsiva e, in un certo senso, imprevedibile, riteniamo che il suo temperamento e la sua personalità rendano più facile controllarla con la promessa di sfide sempre crescenti, con ottime prospettive di successo. Qualunque informazione di cui possa essere in possesso che Richard Croft è riuscito a tenere nascosta alla Trinità rappresenta ovviamente un ulteriore fattore di interesse. Ne raccomandiamo fortemente il reclutamento. Ok, bene, bene. Mi volevano reclutare. Un altro campo. Devo fare attenzione a non essere visti. Ah, per mimetizzarci. Ok, bene. Allora è come avevo pensato. Dobbiamo farci vedere. C'era qualcosa qua. L'ho preso? Vabbè. Provenire qui, comandante Rurka. Confermate isolamento perimetro. Ci siamo quasi. Tutti i punti d'accesso sono protetti e anche le barricate sono quasi ultimate. Quasi non basta. Isolate il perimetro ora e assicuratevi che sia sigillato ermeticamente. Direi. Sì, signore. Se posso, signore. Eccolo che arriva. Ricognitori in arrivo. Passo e chiudo. Dai! Lui è andato. Ok. Allora, proviamo a muoverci prima. Aspetta, deprediamo prima lui. Proviamo a muoverci di qua. Ok, morto anche lui zitto zitto. O forse mi riesce meglio dell'asso vase parte 2 degli altri. E' pieno di ostacoli. La visuale è una merda. Ah, 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 là è rosso. Quei due sono vicini, però forse se vado di qua... Non dovremmo mandare qualcuno a cercarli. Rurka è stato chiaro. Niente soccorsi, quindi non arrivano i ricognitori. Ma è passato quasi ora dall'ultima comunicazione. Il comandante non abbandoni. Cosa? Vado a vedere che succede. Dai! Eppure tu sei morto. Zitto zitto. E' andato anche lui. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Perfetto. Dovremmo essere riusciti a... Oh. Oh. Mmm. È abbastanza normale. Ah. Qualcosa è andato storto. Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Comunque anche il tempo è protetto. Non so. A me sembra che siamo passati da un allarme giallo in un luogo più costritto a un allarme rosso generale. Dalla conquesta siamo tutti un po' a... Ok. E ora? Mmm. Non so se scattare lì potrebbe essere utile. Che cosa sarà successo? Stiamo sigilando il perito. Qualcuno pensa siamo stai attaccati. Ma l'è da cosa? Non c'è niente da qui. Lo dici? Stavamo cercando qualcosa. Magari loro l'hanno trovata e non era ciò che pensavamo. Erano più in gambe. C'è qualcosa laggiù. Ha finito l'evento. Accidenti! Oh! No! Che è il per lato? No! Che cosa è venuto? No! Che cosa è venuto? Che cosa è venuto? No! L'ultimo tutto! No! Egh! Ah! Vabbè no! Ok. Perimetro messo in sicurezza. Non ci resta che aspettare la squadra di cognizione. Non ti sembra strano? C'è stato un problema sottoterra e ci ordinano di togliere. fortificarci contro possibili minacce. È abbastanza normale. Ok. Vabbè. È l'ultima parte ragazzi. Non è uscita silenziosa ma chi se ne frega. Il comandante Rurk è qui in Peru. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? È certo. Sì. Controllo cosa hanno trovato. Che facciamo? Non vediamo. Rurk era coso mai il puto Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. No. Ecco. Avrei potuto fare il giro di là. Vabbè. Ormai. Eeeh. Eeeh. Ce l'abbiamo fatta. Uuuu. 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 Vediamo innanzitutto se c'è qualcosa che ci può servire. Certo. Pieno? Ah sono pieno. Eeeh. L'attacco di un giaguaro? Non penso. Ah ecco qua un'altra cassetta. Per costruire. Oh 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 qua. Pieno 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 pieno. Ah ok qua. Dovevo andare di là di là di là. Oh una nuova piantina. Oh sì sì. Ok. Noi dovremmo arrivare. Non lo dice dove. Ok. Qua documento. Eh sì. Dovremmo proseguire lungo questo sentiero direi. Eeeh. Qua c'è qualche altro documento. Aspetta aspetta. Prendiamo. All'attenzione del dottor Dominguez. Localizzato possibile punto di ingresso per tempi fuori Kuwaki Yaku. Attrezzature di scavo in arrivo. Ottimo. 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 Quindi allora seguendo la piantina ipoteticamente dovrei andare lì qua. Vediamo un po' dove mi porto ora sulla piantina. Ah no. Lì da dove sono venuto e quindi il mio percorso che sto seguendo dovrebbe essere qui all'interno della foresta ora. Eh sì. Vediamo. Ah ok. Ho capito dove sono. Allora zoom abbiamo detto L2. Ok. Siamo là. Sì. Dovemmo seguire penso questo percorso. Arrivare al documento lì. Vabbè. Andiamo. Vediamo un po' cosa succede ragazzi soli. Vediamo un po'. Vediamo. Vediamo. Tomb Raider mi piace tantissimo. Non mi dite niente. Ah i gusti sono gusti. E questo è quel che piace a me. Oh ok. Un rospo gigante. Che roba è. La faccia è simpatica però. Ok. E qui penso ci possa essere qualche trappoletta. Ecco infatti. Eh. Ho già trovato qualche macchinario che devo attivare. Spero di non perderci un'ora. Bene. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ischel. A destra Shashel. Mmh. E quindi? Ah dobbiamo far coincidere. Che simbolo li devo far coincidere? Vediamo un po'. Oh. Ecco qua. Ecco qua. Fatto. Penso. Eeeh. Dove devo camminare? Qui sopra? Sì. Ok. Vediamo un po'. Spingiamo qua. Perfetto. Ah. Era indifferente dove andavo andavo? Oh. E' qui? No. Non dobbiamo. Non. Non. Non c'è da fare nulla. Allora devo andare dall'altro lato. Ok. Ah. Se cadi là sotto secondo me si potresti bruciacchiare un pochettino. Ora tocca di qua. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Clicca. Perfetto. Ok. Wow. Andiamo un poco. Vediamo se qui si interagisce. No. 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 Cadrà anche qui. Perfetto. Vai. Ah no. Qua non cade. Però si sarà aperto. Ah. Sì. Il passaggio qua. Ok. Clicchiamo. E ora andiamo a vedere che cosa si cela dietro questa porta. Qualche trappola. Eccola. Sì. Oh. Eh. E ora? Ah. Eccola. Eccola. Capito. 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 Quindi qua dobbiamo fare un... Che è un... Che simbolo è quello? Questo qua. Ok. Dove essere giusto da quello che vedo? Sì. E di qua invece deve essere... Tutte la ciambella. Ok. Quindi tutto ciambella. Ciambella, ciambella qua. Tutto fatto. Ok. Vediamo. Ok. Sì. 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 Perfetto. Ah. Ancora. Devo continuare ad abbinare i simboli sulle colonne a quelli sul muro. Ok. Quindi ora... Forse ho capito. La foto di Cozumet. Magari c'è un indizio. Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashen? Una linea trasversale con due puntini sopra. Ok. Sì. Allora l'avevo capito. Perfetto. L'abbiamo fatta. E ora dovremmo riuscire ad andare avanti. Oh. Perfetto. Bene, 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 ragazzi. Bene, 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 bene. Oh. Perfetto. Però ho acquisito un punto abilitario. Ehi, Lara. Sono Abby. Oh. Ciao, Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Ah. Lungo il cammino c'è un ragno. E un uccello che vola verso un tempio. Ok. Non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Hm. Si. Ok. Un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, bene. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Si, sto tornando. Ok. Ottimo. Perfetto. Ho delle buone notizie. Dici, dici, sentiamo. Ah, non ce l'ho a dire. Va bene, questa missione, ragazzi e ragazze, la vedremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, continuate a seguirmi e vedremo dove ci porterà tutta questa strada, tutto questo cercare. Ciao ragazzi, ciao ragazze, mi raccomando il like e un commento. Ciao a tutti e grazie di avermi seguito fino alla fine. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.